Musica Qui alla mostra abbiamo qualche pochi lavori in marmo e altri materiali per fare confronto in un contesto più grande per le statue in bronzo. Le statue in bronzo sono quasi tutte perdute, ma in questo insieme eccezionalmente abbiamo 50 più o meno di questi rari pezzi dall'antichità in gruppi che parlano dei contesti più grandi e abbiamo insieme tante volte come queste due copie o gruppe non viste insieme mai prima e io penso non avremo questa possibilità dopo di avere sotto un tetto tanti pezzi eccezionali come qui a Palazzo Strozzi. Musica 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 Abbiamo deciso di mettere insieme opere provenienti da diversi musei in varie parti del mondo, dall'Italia, dagli Stati Uniti, ma anche da molto lontano dalla Repubblica di Georgia, naturalmente dalla Grecia, per creare una situazione che non si può avere in nessuno di questi singoli musei. Molti musei sono fortunati se possono esporre uno, a volte due, bronzi antichi. In questo modo espongono qualche cosa di particolarmente raro e di inestimabile valore, ma allo stesso tempo rappresentano qualche cosa di isolato. In effetti sono pezzi rari perché sono sopravvissuti fino ai nostri giorni, numero molto inferiore rispetto ai capolavori di marmo, e questo perché il bronzo veniva trasportato e riciclato con maggiore facilità. Grazie per la visione!